benvenuti in una nuova puntata di lg in the box l'appuntamento in cui conoscere le ultime novità dal mondo della telefonia cellulare di lg oggi parliamo di lg pathfinder un telefono che offre tutto quanto si possa desiderare in termini tecnologia design e connettività a un costo realmente alla portata di tutti vediamolo da vicino innanzitutto lg pathfinder è un telefono completamente touchscreen con un ampio display da tre pollici e un'interfaccia grafica veloce e intuitiva è perfettamente utilizzabile con le dita grazie alle icone grandi e ben distanziate anche nel caso degli sms in cui è possibile utilizzare il t9 in modalità ritratto o la tastiera estesa virtuale ruotando il telefono all'occorrenza è comunque disponibile un pennino sul lato del telefono utile ad esempio per disegnare o per modificare le fotografie scattate con la fotocamera integrata da ben 5 megapixel quest'ultima dotata anche di funzioni autofocus macro e flash ad alta luminosità lg pathfinder è perfetto per navigare in internet sia per l'interfaccia touch che per la connettività veloce garantita dalla tecnologia hs dpa 3,6 megabit per secondo o da quella wifi parlando di navigazione lg pathfinder integra anche il ricevitore gps grazie al quale è possibile geotaggare le proprie fotografie e naturalmente avere tutte le indicazioni per i propri viaggi lg pathfinder include infatti il navigatore wise pilot con funzioni di guida vocale punti di interesse e sincronizzazione di percorsi emette con il sito lg.wisepilot.com l'uso di wise pilot è gratuito per 30 giorni dopodiché sarà possibile rinnovare l'abbonamento per tre mesi o un anno alle tariffe indicate sul sito le mappe sono sempre aggiornate e l'accesso avviene tramite connessione internet per questo è consigliabile sottoscrivere un piano dati di tipo flat con il proprio gestore riassumendo gps fotocamera ad alta risoluzione connettività veloce e touchscreen sono i fiori all'occhiello di lg pathfinder che si distingue anche sul fronte multimedia potendo funzionare da lettore mp3 e da radio fm la memoria è espandibile fino a 8 gigabyte tramite schede micro sd mentre per il collegamento ad altri dispositivi o la sincronizzazione con il pc sono presenti sia il bluetooth che il collegamento via cavo usb lg pathfinder è già disponibile nelle colorazioni nero titanio e bianco con una dotazione di accessori che comprende oltre al cavo usb anche gli auricolari stereo un telefono per ogni occasione e situazione quindi che porta finalmente il meglio della tecnologia alla portata di tutte le tasche cari amici di lg in the box anche per oggi è tutto vi do appuntamento alla prossima puntata dove parleremo di un telefono piccolo ma dal cuore molto grande alla prossima